Annata di scarsa quantità, meno 30% di produzione, ma di ottima qualità grazie all'assenza della mosca. Olio dunque di ottima fattura anche per il 2012, pronto per essere assaporato il 10 e l'11 novembre per l'edizione 2012 di Frantoi Aperti, appuntamento promosso dall'assessorato alle politiche agricole della regione Abruzzo, in collaborazione con Confrantoiani, Aifo, Città dell'Olio, Olioteca regionale e comune di Loreto a Prutino. Una delle eccellenze dell'agroalimentare si mette dunque in mostra a consumatori e studenti, infatti saranno 37 i plessi scolastici tra elementari e medie che si recaranno nei 56 Frantoi Oliari Aperti in tutte e quattro le province per toccare con mano il processo produttivo dell'olio, dalla raccolta delle olive alla fase della spremitura. Questa è una manifestazione, come ho sempre detto, che rappresenta l'agricoltura nella sua intierezza, non c'è nessuno delle 66 mila imprese agricole abruzzesi che non abbiano una pianta di olivo e che non portino le proprie olive a macinare. È una manifestazione che coinvolge, che mi viene richiesta, ma soprattutto è una manifestazione che ha portato un risultato positivo. Noi dopo questa annata cominceremo il nostro sondaggio che abbiamo già fatto qualche anno fa. Al mio insediamento, che quattro anni fa si parlava di un autoconsumo interno del 35-37%, quello che abbiamo fatto lo scorso anno ci dava intorno al 55-57% come autoconsumo. Purtroppo i fondi a disposizione ci permettono solo di accontentare una parte del mondo studentesco, ma insomma sono 1.800 ragazzi che vanno a visitare i nostri fantoi e cominciano a capire la bontà del nostro olio. Questo credo sia una cosa interessante.